Nel 2004 ho avuto l'incarico di andare negli Stati Uniti a fare la mission del rappresentante il signor rappresentante italiano presso un ente molto importante, questo comando centrale US, nell'ambito della Nato, che era ed è preposto alle operazioni in Afghanistan, in Iraq e nel corno d'Africa, gli americani dividono la sfera terrestre in aree di responsabilità, l'area di Centcom, di US Centcom, era l'area più importante e più critica dal punto di vista della situazione della sicurezza in generale, quando si parla di Meglio Oriente, di paesi anche ovviamente africani, come ho detto, Afghanistan, Iraq e chiaramente Iran fino a Israele compreso, suddiviso per latitudine. La base era a Tampa, in Florida, dove coesisteva con una base enorme dove c'era sia le forze speciali, il comando delle forze speciali USA e il comando degli aerotanker, cioè dei KC-135 e KC-10, cioè degli aerei per il rifornimento in volo di altri aerei e andai nel 2004, 2004 quando ovviamente fu istituita questa coalizione dei volenterosi, questa coalition a seguito dell'attacco delle Torri Gemelle, delle Twin Tower, l'11 settembre del 2001. Tutti chiesero, sia nell'ambito NATO, sia nell'ambito US, o sei con noi o sei contro di noi, Bush, vi ricordate tutti quello che disse subito dopo l'attacco e quindi l'Italia aderì con un'attività sia di presenza negli Stati Uniti sia poi sul campo, perché ovviamente poi abbiamo contribuito molto anche sul campo o sul mare, nel nostro caso, per dare una mano, come diceva shoulder to shoulder, a queste attività fatte contro chi? Contro questi marioli o farabutti di talebani, a cui allora era imputato insieme a questi attacchi di questi quattro aerei fatti cadere giù negli States, due nelle Twin Tower, uno al Pentagono e uno che si era schiantato dalle parti della Pennsylvania in un bosco e la colpa era, cioè erano imputati chiaramente tutta una serie di, voglio dire, di gente un po' al di fuori del sistema, per non dire terroristi, ma che poi fu impostata proprio da Bush questa guerra contro il terrorismo internazionale, la famosa GUOT, a cui l'Italia aderì. Nell'ambito di questa adesione c'era anche un nostro rappresentante, che ho fatto io poi per un certo periodo, negli Stati Uniti, nell'ambito di queste 65 nazioni che dalle isole Figi ai tedeschi, ai francesi, agli inglesi ovviamente, agli americani, a noi, e io ero uno dei più anziani, tra l'altro in questo round table che doveva decidere, doveva condividere certe decisioni, soprattutto degli americani e della Nato, dove in questi teatri molto sensibili. Dicevo, ma in quel periodo, anzi prima, non tanto tempo prima, devo dire che il nostro contributo è stato fondamentale perché abbiamo andato, prima parlavamo del Garibaldi, i Garibaldi con due fregate, lo Zeffiro e l'Aviere e l'Etna, appena dopo il 9-11 abbiamo mandato questa formazione abbastanza spedizionaria e autonoma con gli AV-8 imbarcati sul Garibaldi per il mare arabico. Lì sono stati e lì hanno operato per oltre, hanno fatto oltre 400, 500 missioni di volo, tra l'altro andando a battere gli obiettivi a Torabora che richiedevano 3-4 anche rifornimenti in volo di giorno e di notte. I nostri erano all'inizio, quindi con un impegno, un po' a livello di rischio di un certo tipo e con gli elicotteri abbiamo fatto qualcosa come 800 missioni. Gli americani per questo devo dire che hanno riconosciuto a più riprese, mi riconoscevano, io che rappresentavo l'Italia in quel momento, una particolare gratitudine per quando venne la prima volta a Bush mi dette una pacca sulle spalle, diceva, thank you, you Italian, senza discutere se era meglio quel preemptive attack in termini di diritto internazionale che è stabilito da Bush, però si capisce che con quello, con tutti i morti che hanno avuto era anche logico che la dottrina, chiamiamola internazionale, si modificasse nel senso più a favore degli americani e io ricordo un accenno a questo che è indicativo, dice se hai un serpente in casa non aspettare a difenderti che ti attacchi, ma se hai tutti gli elementi e conosci che hai un serpente in casa, che è pericoloso ed è velenoso, devi fare in modo di annichilirlo senza attendere, è un po' il suo approccio al preemptive attack, cioè quello che ha fatto in Iraq e che poi ha fatto in Afghanistan contro i talebani, discutibile sul piano internazionale se noi chiediamo ai vari esperti di diritto internazionale, dice che anche una minaccia immanente, anche di fronte a una minaccia immanente non si può, ma di fronte a 5.000 morti forse chi ha questo potere probabilmente aveva anche il diritto dovere di fare questa attività, ripeto, senza entrare poi nel merito, però noi abbiamo avuto in questo ambito, mi riferisco proprio all'attività sia in Iraq che in Afghanistan, nell'ambito di questa società dei volenterosi nell'ambito Nato, devo dire un'attività molto intensa, sia come gruppo navale e gli americani ce l'hanno veramente ampiamente dimostrato in mille occasioni e anche diciamo sia per la parte aerea che per la parte elicotteri, loro volevano operare solo con noi, perché? Perché i nostri erano stati addestrati giù e si trovavano con le portaerei americane, praticamente si sono ritrovati compagni di corso di pilotaggio, per cui si annusavano come i pedigri che andavano, volevano solo che venissero dal Garibaldi le missioni, fuori che per noi era un peso non da poco, perché un conto è avere 80 aerei su una porta aerea, un conto è averne 8, 10 di aerei come avevamo come avevamo noi, però si capisce che da un punto di vista del, come dire, del valore aggiunto alla missione, all'Unduring Freedom è stato una, ecco in questo periodo, quindi l'aver partecipato a queste missioni molto importanti e anche insomma reali, un mondo reale, non in un mondo di esercitazione, è stato forse l'aspetto più coinvolgente, anche più interessante, non solo su quello, ma anche dal punto di vista dell'impiego dei Predator, che l'aeronautica aveva acquisito in numero di 6, noi di un paio, avevano chiesto agli americani di integrare le loro missioni con le nostre, noi abbiamo per quanto possibile, ripeto, nei limiti anche della nostra organizzazione, della nostra legislazione, abbiamo fatto in modo di dargli una mano e di questo gli americani erano, sono stati veramente riconoscenti, io ricordo mancavano dei pezzi di rispetto, noi non abbiamo avuto nessun problema a farli arrivare dagli stage, mancavano armamenti, perché se uno si dimostra che capisce il problema e loro avevano un problema fondamentale, l'hanno avuto loro per la prima volta, hanno avuto l'attacco nel loro territorio, è stata un'attività quindi questa della Nato in maniera assolutamente voglio dire molto, molto, molto efficace e molto cooperativa, ecco direi questi due termini con gli americani, con gli americani in particolare, poi noi abbiamo ovviamente mandato anche a Erat, abbiamo attivato costruzioni, strade, aeroporti, eliporti e purtroppo anche pagando, perché tra Afghanistan e Iraq abbiamo lasciato oltre 50, 52 ragazzi che in vari incidenti, per vari motivi, da Nassiria in giù, abbiamo pagato come società italiana, diciamo a livello, sì come contributo a livello internazionale, abbiamo avuto le nostre glorie, ma abbiamo avuto anche i nostri eroi e si è pagato parecchio in termini di vita, non come gli americani, che io ricordo il primo briefing, quando siamo andati, quando sono arrivato a Tampa, io non capivo, pur essendo già a Mirale di Visione, non capivo tutti gli acronimi che usavano, questi americani quando devono fare dei briefing credono di parlare sempre con gente che fino al momento X meno uno, meno un minuto erano lì con loro, non è sempre così, c'è anche una rotazione, ma soprattutto quello che mi colpì era nel briefing, dice oggi qual è il numero dei periti, 50, 60, 70, dei feriti, loro come wanted consideravano i feriti, irrecuperabili, senza una gamba, senza un braccio, non quelli che dicevano ferito, le scoriazioni tra un mese e di nuovo, quelli non li contavano, feriti 80, 100, ma questo che è un briefing dove si contano i morti e basta, e ogni giorno era così, e gli americani hanno pagato un tributo, gli americani e le altre nazioni Nato, io ho accennato ai nostri, 52, 53 vittime, che sono tante comunque per chiunque, ma mi chiedevo dove fosse capitato, insomma, perché non ero abituato a dei briefing dove, ero abituato dove si pianificava le operazioni, ma non la conta quotidiana dei morti e dei feriti irani, questo era l'ambiente, quindi se hai un serpente in casa, come diceva Bush, bisognerebbe intervenire prima, perché quando sei in procinto di difendersi vuol dire che hai saperso, non aveva tutti i torti. Grazie.